Con la grande neve è più difficile muoversi, ma per tutti è come se fosse arrivata una magia. Restano però alcuni interrogativi. Gli olivi resisteranno al gelo? Come mai nel soffitto del ristorante che guarda il paese ci sono disegnate le onde del mare? E perché Weimer e la famiglia hanno lasciato la loro casa nella zona industriale e sono venuti a vivere al mulinaccio? A queste e a tante altre storie è dedicato l'ultimo libro di Francesco Baldarelli, ex sindaco di Fano e parlamentare europeo, che domenica presenterà La Grande Neve, dedicato all'evento eccezionale che si verificò nel 2012. L'incontro è in programma per le ore 18.30 in piazzale Marconi a Cartoceto. Dopo aver pubblicato Il Tempo Sospeso nel 2015 presenterà il suo nuovo libro. Di cosa tratta? Guardi, tratta di una realtà, quella di Cartoceto, che viene presa da questa grande nevicata. E lì vengono fuori i rapporti, le relazioni, le dimensioni del vivere quotidiano, ma anche le cosiddette contraddizioni sociali e culturali che ci sono oggi. La presenza dei vecchi residenti, i nuovi residenti, gli immigrati, la natura che sta in maniera molto forte con gli animali, con gli alberi, con la forestazione. Quindi sono elementi che in qualche modo tendono a descrivere questo nostro territorio e dare voce alle figure che sono lì comprese. Domenica, oltre a lei, ci saranno anche altri ospiti. Chi interverrà all'incontro? Sì, diciamo, è presentata dalla Proloco di Cartoceto, che mi ha fatto questo onore di presentare questo libro. Ci saranno insieme a me le autorità naturalmente locali. Credo ci sarà presente il sindaco, l'assessore delegato. Poi ci sarà praticamente Slow Food di Urbino, che è aderito all'iniziativa, oltre naturalmente a Marco Ferri, che è un importante scrittore e poeta della nostra città, della città di Fano. Per me è un grande piacere avere Marco Ferri che presenta il libro. Poi c'è Carl Hoffman, che è un giornalista che risiede da quasi 30 anni a Cartoceto. Franco Mancinelli, che praticamente è un critico letterario di Fano, che tutti conoscono, ha fatto anche l'assessore della cultura Fano. Dove è possibile trovare il libro? Il libro si trova nelle librerie, ma si può trovare anche nella ricerca informatica, attraverso l'ordinazione in rete, quindi si può trovare benissimo. La casa editrice Affinità elettive di Ancona.